Buonasera, si è appena conclusa l'ottava edizione del Salone Internazionale del Gusto, è stato un grandissimo successo, anche Antropos questa sera se ne occupa, ma con il linguaggio che solitamente ci appartiene, quello che non abbandona mai la ricerca. Questa sera cercheremo di stabilire il sottile, strettissimo legame che c'è tra il cibo, tra il gusto soprattutto e la sicurezza alimentare. Di fatto c'è sempre un'attenzione maggiore ad abbinare quella che è un'alimentazione sicura a un'alimentazione legata alle caratteristiche, alle tradizioni della terra, anche la sensazione che con un cibo tipico ci sia, come c'è di fatto, una catena alimentare corta. Abbiamo visto ancora quest'estate i disastri legati alla grande produzione, mozzarella e blu, scoprire che formaggi che credevamo italiani erano fatti in Germania con latte polacco. Insomma, la percezione di una catena alimentare molto lunga in cui ogni fase può essere un momento di rischio, di fatto viene percepita fortemente. E la catena alimentare corta, quindi il prodotto vicino del territorio, potrebbe rappresentare un sostegno di più per la sicurezza alimentare. Però è vero anche che sono due concetti assolutamente diversi, che se stanno insieme è ancora meglio, è magnifico, però sono due aspetti molto diversi, perché l'alimento deve essere comunque sicuro, sia di qualità che meno, che tipico, non meno. La sicurezza alimentare non è negoziabile, noi dobbiamo fornire un alimento sicuro. Il risultato di un grande prodotto è dettato, sì, sicuramente dal rapporto addirittura con il contadino. Questo è una cosa, tra l'altro, è un profilo che a me piace parecchio, ma anche il contatto umano, vedi da dove nasce il prodotto e già lì sei decisamente sensibile a questo. Quest'acqua ha una microfiltrazione particolare, io ho notato che si preserva molto di più il prodotto, o ad esempio quando vado a cuocere la pasta si evita questa sorta di schiuma, che è l'amido che fuoriesce. Quindi tutto questo per preservare assolutamente la cottura della pasta, ma come anche quando vado a lavare le verdure o queste cose. Cerco sempre di, cerco, e tanti altri miei colleghi lo fanno, soprattutto in Italia, cerchiamo sempre veramente di avvicinare sempre di più come sa, cercare di far mangiare il prodotto appena che viene prodotto. E' legata alle minacce che, ci rendiamo conto, ci colpiscono attraverso la globalizzazione del cibo, appunto la catena alimentare lunga, la percezione che questi rapidissimi movimenti delle materie prime o dei prodotti finiti possano rappresentare un rischio che in parte, vero, non sono sempre solo allarmi mediatici, in gran parte, abbiamo dati epidemiologici internazionali che ci dicono che le malattie trasmesse da alimenti sono in crescita, sono in crescita, un 8-10% all'anno. Sicuramente c'è maggiore attenzione, ci sono maggiori segnalazioni, però di fatto ci sono anche proprio maggiori possibilità di ammalarsi per malattie trasmesse appunto da cibi che arrivano molto spesso da fuori. Il progetto Terra Madre è nato dalla considerazione che era possibile realizzare una rete planetaria di contadini, pescatori, comunità che operano nel settore del cibo con gli intendimenti di salvaguardare da un lato gli ecosistemi e dall'altro la dignità del mondo rurale. Mettere questo in rete, non solo in una dimensione nazionale, ma in una dimensione internazionale, fa del soggetto Terra Madre un soggetto unico. Terra Madre punterà come elemento distintivo e anche come impegno forte a valorizzare il ritorno dei giovani alla Terra. Noi ci avviciniamo a un prodotto, notiamo che colui che lo produce, che lo fa crescere, lo fa non sempre per lo stesso stimolo che noi riceviamo. Cioè lo fa perché, capisci, deve, perché è sussistenza, deve perché la famiglia gliel'ha obbligato, perché si trova in quella terra, perché deve pagare i costi della sua fattoria. È quasi una conseguenza logica. È una conseguenza. Poi ovviamente in Italia trovi produttori, contadini, che ti fanno un grano particolarissimo, questi piccoli formaggiai che li trovi in mezzo. Come dice Petrini, molto capaci. Sono veramente dei grandi. Grande parte delle tossifezioni alimentari hanno origine in casa, nell'ambiente domestico, quindi la formazione e l'informazione del consumatore, anche per garantire la sicurezza, è fondamentale. Quindi stiamo facendo un richiamo alle responsabilità del consumatore. che si aspetta sempre, sempre, comunque, dei controlli, la garanzia, la sicurezza, ma deve ovviamente rispettare anche quei dictati. Sì, è parte fondamentale della sicurezza. Ma attento. A guardare la gente cosa compra. A volte, secondo me, non è cosciente di quello che mette tutto dentro il carrello. Perché lasciando perdere il prezzo, perché molte volte, sai, è molto importante, se uno dice il più conveniente lo prende, però compra di più di quello che dovrebbe comprare. E lì, molte volte, sono sicuro che il prodotto viene mangiato di colpo, velocemente, oppure anche buttato. Sicurezza che vogliamo, livello così elevato di sicurezza che il consumatore italiano vuole, ha un costo, chiaramente, che è carico di parte dell'azienda, ovviamente, produttrici, in parte dei contribuenti. I costi sono elevati indubbiamente, legati all'alto numero di controlli. Ricordiamo che in Italia si fa ogni anno un milione e duecentomila controlli su tutti gli alimenti, quindi costi elevati, che molto spesso possono far porre la domanda se vale la pena. Ad esempio, per fare un esempio, i controlli che ancora tutt'oggi esistono su tutti gli animali di una certa età per la BSE, per la mucca pazza, hanno un costo elevatissimo per il cittadino, che però va messo in conto, come principio di precauzione, a pensare anche cosa vuol dire, magari tantissimo, poi pochissimo rispetto a salvare una vita, perché in questo caso si tratta di una malattia che è pericolosa per l'uomo, può essere fatale, ci sono ancora delle vittime nel resto dell'Europa, quindi questo costo elevatissimo può essere assolutamente giustificato. La ricerca scientifica è molto più attenta, è molto più importante per dimostrare l'innoquità di questi prodotti quanto per dimostrarne la loro possibile pericolosità. Ma un altro dei temi su cui vogliamo fermare l'attenzione di Antropos è il tema della fame nel mondo. Il convegno internazionale di Slow Food e Terra Madre ha posto l'attenzione al fatto che un biglione di persone nel mondo soffre di fame. Si muore per carestia, si muore per mancanza del cibo più elementare ed è stata lanciata una campagna internazionale, mondiale, di sottoscrizione proprio per combattere la fame del mondo e questo è stato il messaggio che il meeting internazionale della FAO a Roma ha posto proprio in questi giorni perché l'attenzione pubblica non perda di vista questo grandissimo tema della fame del mondo e degli aiuti al terzo mondo. Si è parlato in questa trasmissione di sprechi di come recuperare molti dei prodotti della nostra cucina. Ecco, noi sappiamo che nei paesi occidentali vi è una quantità di consumo di cibo assolutamente sovradosato tant'è che tra le patologie in grande incremento come abbiamo visto vi è l'obesità specialmente come diceva Petrini nei paesi negli Stati Uniti d'America e vi sono anche problemi di incremento del diabete problemi questi che potrebbero essere combattuti come quello delle dislipidemie con una più attenta osservanza di cosa mangiamo e di che tipo di vita noi conduciamo quindi la salubrità del nostro cibo in termini di sicurezza ma anche la quantità di cibo e la varietà di prodotti che noi consumiamo per mantenere una forma fisica e un'efficienza mentale particolarmente valida.